Bruno Gentili, 74 anni, ha portato con sé le ragioni del suo gesto. Forse è meglio che me ne vado, aveva detto nei giorni scorsi, e oggi lo avrebbe fatto in silenzio, senza salutare nessuno, senza lasciare un biglietto d'addio. Una tragedia che si è consumata questa mattina a piagge nel comune di Terre Roveresche. Intorno alle 10.30 la badante polacca, rimasta con lui fino a 5 minuti prima, non l'ha più visto e ha iniziato a cercarlo, anche nel bar poco distante. Poi, come racconta un vicino di casa, la donna avrebbe visto il corpo riverso nelle acque del canale Albani. Sono subito accorsi quattro uomini, tra cui il marito della nipote, che hanno trascinato il corpo a terra e hanno chiamato i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Gli a fianco c'erano le ciabatte, che l'anziano avrebbe tolto prima di buttarsi, e il suo cappello ben appoggiato a una ringhiera. Sono sconvolto, ha affermato il vicino di casa, che ha aiutato gli amici a recuperare il corpo. Bruno, ci hanno riferito, non era sposato e non aveva figli, ma anche se era assistito da una donna, era lucido, capace di intendere volere. Nell'ultimo periodo, però, era caduto in depressione. Questa mattina, il marito della nipote avrebbe dovuto accompagnarlo a fare un attack, ma all'ospedale non c'è mai arrivato. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri di Saltara, guidati dal comandante Antonello Pannaccio. Sulla salma verrà eseguita un'ispezione cadaverica, ma l'ipotesi sulla quale ora indagano i carabinieri della stazione di terre roveresche è quella del suicidio.